Una delle assemblee dei soci più partecipata di sempre per un appuntamento definito epocale per la storica associazione di volontariato andriese, Calcit. Oltre 35 anni fa la fondazione, nel giugno del 1984, quando un manipolo di ragazzi adolescenti assieme ai loro docenti decisero di costituire ad Andrea questa associazione che aveva nel suo interno come simbolo il colore verde della speranza, ma che avrebbe avuto nel suo DNA la forza di tramandare alla popolazione, e in particolare alle generazioni future, la necessità di costruire percorsi di prevenzione per quello che cominciava ad essere sempre più il male del secolo, e cioè il cancro. In 35 anni tanto è cambiato, ma l'assemblea di sabato scorso all'interno del Salone Parrocchiale di San Giuseppe Artigiano ha modificato anche lo statuto costitutivo dell'associazione, che pur mantenendo inalterati gli scopi sociali, e cioè dare sostegno economico in favore dei malati di tumore bisognosi, ha visto l'adeguamento al nuovo codice del terzo settore. Sì, oggi è un'altra svolta epocale perché abbiamo discusso e votato il passaggio a organismo del terzo settore, da ONLUS a ODV, secondo i dettami del RUNS. Altra importante novità è stato l'ampliamento dell'organo direttivo da 7 a 9 membri, oltre all'inserimento tra le figure di riferimento dell'associazione, assieme al consulente spirituale Don Sergio Dinanni, anche di un consulente medico scientifico di particolare prestigio. Da quest'anno abbiamo un nuovo consulente medico, che è il dottor Gennaro Gadalita Caldarola, primario oncologo dell'unità operativa dell'ospedale di Miccoli di Barletta, che coordinerà il nostro lavoro dal punto di vista scientifico, organizzando eventi e programmando quelle che sono le nostre attività sanitarie sul territorio. La nuova sede, che accoglierà soci e molteplici attività, sarà in via Taranto, mentre sono già partite diverse azioni sociali che proseguono nel tempo e che solo parzialmente sono state bloccate dall'emergenza sanitaria in corso. In vista c'è anche la giornata del malato oncologico, che come ogni anno viene organizzata dal Calciti in occasione dell'8 dicembre. Grazie alla presenza di tutta questa gente ci sentiamo ancora più coinvolti e ancora più motivati nel portare avanti tutte quelle che sono le iniziative presenti e future del Calciti.